Musica E' tutto pronto per il nuovo corso per esperto nell'africoconservazione delle mele e dei piccoli frutti organizzato dal centro istruzione e formazione di San Michele all'Adige. L'iniziativa didattica si rivolge ad un massimo di 15 allievi, diplomati nel settore agricolo, delle costruzioni e industriale e c'è tempo fino al primo agosto per iscriversi. Ne parliamo con Michele Covi, coordinatore della sezione qualificazione professionale agricola di San Michele all'Adige. Qual è l'obiettivo di questo corso? Questo percorso formativo si colloca in continuità con il percorso formativo che si è concluso lo scorso anno, un percorso post diploma per esperto nella gestione della filiera ortofrutticola. Ecco, qui vogliamo fare un passo in avanti e offrire un'occasione di specializzazione per coloro che vorranno inserirsi all'interno del mercato agricolo nel comparto della conservazione e della lavorazione, quindi della frigoconservazione dell'ortofrutta più nello specifico delle mele e dei piccoli frutti. Come si articola questo corso? Sarà un percorso formativo post diploma, verrà organizzato probabilmente nel fine settimana, sarà costituito da 590 ore, suddivise in attività di stage e in attività in aula secondo il modello dell'alternanza scuola e lavoro. I docenti chi sono? Sono professionisti di grande competenza, alcuni docenti universitari, stiamo stipulando degli accordi con alcune università, in particolare con docenti dell'Università di Trento, dell'Università di Milano e dell'Università di Bolzano. Per maggiori informazioni, a chi si possono rivolgere le persone interessate? Tutti gli interessati devono rivolgersi alla segreteria del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mac al numero 0461-615-213. Grazie Michele, ora vediamo un altro servizio che riguarda sempre la scuola. Lezione di apicoltura all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, oggi con gli studenti parliamo di apiari e tecniche apistiche, vediamo. Siamo con il professor Davide Bazzanella, come si svolgono le lezioni di apicoltura? Le lezioni di apicoltura si svolgono un po' in classe, soprattutto per quanto riguarda la morfologia dell'appe e l'aspetto, diciamo, teorico e poi in campagna, in apiario, per quanto riguarda le visite, i controlli e le osservazioni dal vivo. È il primo anno che fate queste attività all'esterno? Questa attività è il primo anno che viene fatta ed è un corso, diciamo, appunto nuovo, istituito proprio quest'anno. Che cosa fanno qui ragazzi? Oggi lo chiediamo a uno di loro, come ti chiami? Paolo. Ecco, spiegaci appunto cosa fate oggi qui nel parco dell'Istituto. Oggi stiamo visitando l'alveare perché da una settimana abbiamo posizionato il melario, quindi stiamo visitando le api se stanno lavorando, come stanno lavorando. Parliamo delle tecniche apistiche. Sì, sicuramente tecniche apistiche bisogna, per l'apicoltore, serve sempre una seraconoscenza di buone tecniche. Dopo bisogna avere una grande passione e sicuramente essere informati sulla morfologia delle api. Che cosa sta facendo il tuo compagno? Il mio compagno, commediante un apparecchio, sta posizionando del fumo. Il fumo richiama le api all'interno dell'alveare per nutrirsi. Quando l'ape sente l'odore del fumo, si nutre così, si riesce a lavorare meglio. Ecco, con il vostro docente voi costruite apiari e telaini anche? Sì, li costruiamo in classe. Ogni apiario ha la sua ape regina? Sì, l'ape regina è l'ape che è la madre di tutte le altre api. Questa regina ogni giorno deposita le uovo nelle parti dove sono libere e questa va a formare la grande famiglia che è l'alveare. Queste nozioni che apprendete a scuola poi vi servono anche nella vita reale. Tu sei un appassionato? Sì, a casa oltre all'azienda di famiglia abbiamo per hobby degli alveari per cui produciamo il miele per una produzione propria. Il miele che viene prodotto nell'ambito di queste lezioni, che destinazione ha? Allora, quest'anno, è il primo anno che c'è questo progetto, il miele che verrà prodotto quest'anno verrà lavorato nelle strutture del San Michele, quest'autunno dove verrà prodotto il miele. Lasciamo Paolo e i ragazzi continuare con questa attività, torniamo con Davide Bazzanella. Come vengono costruiti apiari e telaini? È un lavoro che viene realizzato in classe? Allora, in parte in classe, in parte ogni insegnante prepara il materiale a casa propria. In pratica, noi insegnanti prepariamo del materiale, assi e quello che serve per il montaggio e la costruzione dell'arnia e poi in classe viene montato assieme ai ragazzi. Bene, grazie Davide. Noi lasciamo continuare questa lezione di apicoltura. Abbandoniamo le api e ci occupiamo di un'altra interessante iniziativa che ha coinvolto la scuola. Il Centro Istruzione e Formazione dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige ha sottoscritto una convenzione con la Scuola Agraria di Priedor. Scopo dell'accordo, firmato dai rispettivi dirigenti scolastici, è intensificare lo scambio di conoscenze tecniche ed esperienze didattiche tra insegnanti, gemellaggi fra studenti, promuovere i corsi seminari e formare specialisti. Marco D'Arri, dirigente del Centro Istruzione e Formazione. Questa convenzione dà il via ad una serie di iniziative in comune. In cosa consistono concretamente? Sì, dà il via, ma direi che continua una serie di attività che già sono iniziate molti anni fa. Comunque con questa convenzione noi vogliamo proprio coinvolgere la scuola della fondazione, l'Istituto Agrario e l'Istituto Professionale in una collaborazione tra docenti ma anche tra studenti per cui ci saranno momenti di confronto tra i nostri docenti, i loro docenti ma anche dei momenti in comune tra gli allievi delle due scuole. I legami comunque tra San Michele e Priedor sono di vecchia data? Sì, certamente. L'Istituto ha collaborato già da 15 anni con Priedor. Alcuni dei nostri dipendenti, purtroppo qualcuno anche non sa più, ricordo l'Elisabetta Vindian, già molti anni fa aveva collaborato proprio per sviluppare il settore agricolo nei territori di Priedor. Mladen Drazic è il direttore della scuola agraria di Priedor. Che cosa vi aspettate da questa collaborazione? Da questa collaborazione soprattutto noi aspettiamo la continuazione dei rapporti precedenti che esistono da più di dieci anni tra l'Istituto Agrario di San Michele e la scuola e che i nostri studenti hanno possibilità di avere nuove esperienze che possono trasferire nelle loro aziende agricole ma anche alla intera comunità di Priedor per un sviluppo dell'agricoltura in generale. Anche per oggi il servizio è concluso, da San Michele è tutto. La linea torna a Walter Nicoletti, noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.